C'è una prospettiva per ora ipotetica che l'amministrazione comunale intende valutare per l'imminente futuro di piazza cittadella, salvare gli alberi attorno all'ex biglietteria, oggetto di tensioni e proteste ambientaliste, per la volontà di abbatterli allo scopo di lasciare spazio al futuro parcheggio interrato. Nella grammatica della giunta Tarasconi però, salvare i 15 esemplari di cedri e tigli non significa lasciarli lì dove sono. Il progetto del posteggio deve andare avanti, così com'è, la sindaca lo ha detto più volte, ma adesso a Palazzo Mercanti non si esclude la possibilità di spostare gli alberi e le loro radici con un delicato intervento tecnico. È l'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, interpellato da Tele Libertà, a confermare che è in corso un'analisi anche sull'ipotesi di un eventuale trapianto delle alberature presenti o solo di alcune. Bongiorni spiega però che non si hanno ancora tutti gli elementi per una corretta valutazione, quindi a scanso di equivoci. Il comune non si sente ancora di essere nelle condizioni di prendere alcun orientamento. L'assessore definisce però doveroso approfondire la fattibilità di questa iniziativa e gli uffici tecnici stanno lavorando in questo senso con una ditta specializzata in trapianti per definire le possibili modalità. Evitare le motoseghe e traslocare le piante esistenti nei pressi di piazza cittadella, dunque, l'amministrazione ci pensa, l'idea potrebbe rappresentare un valido compromesso con i manifestanti, anche in vista del dibattito pubblico, in programma lunedì 9 settembre. Ieri mattina due agronomi incaricati dal comune hanno effettuato un primo sopraluogo sul posto, dove, lo ricordiamo, da lunedì 26 agosto un gruppo di cittadini e manifestanti ambientalisti protesta senza sosta giorno e notte per chiedere di modificare il progetto di riqualificazione di piazza cittadella che prevede l'abbattimento degli alberi. La scorsa settimana gli operai incaricati da GPS, ditta concessionaria dell'opera, erano arrivati in piazza cittadella con le motoseghe per procedere al taglio, salvo poi essere fermati proprio dagli attivisti. Ora quantomeno si attendrà il 10 settembre, data in cui si discuterà in tribunale il ricorso presentato da Lega Ambiente per chiedere lo stop definitivo all'abbattimento degli alberi.